Io vorrei raccontarvi questa storia che ha il titolo di legge elettorale e che è durata cinque giorni lavorativi se stiamo a riflettere bene. La premessa è che la cornice di questo quadro dove è disegnata la storia è il Parlamento, che è il luogo che deve rappresentare e deve portare le voci di tutti i cittadini di cui noi siamo i rappresentanti e che ha la funzione costituzionalmente garantita di scrivere le leggi, di condividere, di spiegarle e di renderle qualcosa che fa bene al Paese. Cinque giorni lavorativi fa, cioè una settimana fa, si è iniziato in Commissione Affari Costituzionali alla discussione generale sulla legge elettorale, quindi già un momento di fondamentale importanza, di una legge da cui dipende la nostra quotidianità perché è vero questo fatto e lo si è fatto su un testo vuoto. Lunedì e martedì mattina abbiamo, della settimana scorsa, lavorato sul nulla, non esisteva ancora un testo perché il capo del Partito Democratico e il padrone di Forza Italia non si erano ancora accordati. Il martedì pomeriggio è arrivata su un foglio, scusatemi, di carta igienica, quella bozza molto astratta di proposta che ci ha obbligato ad andare avanti nel lavoro per cui noi siamo pagati, ovvero sia discutere per fare delle buone leggi. La sera, il giorno dopo, è arrivato alle 22.30 circa 23 un testo azzoppato, ovvero sia alla metà del testo, perché mancava, non era una legge, era ancora la carta a straccia, perché mancava delle circoscrizioni, dei collegi che sono importanti tanto quanto la legge elettorale. Sono state date poche ore per fare gli emendamenti, e questo fatto gravissimo, gli emendamenti presentati dal Partito Democratico sono stati, l'indomani mattina sono arrivati intorno alle 23.30, sono stati ritirati da chi? Da chi sta telecomandando i deputati del Partito Democratico, perché noi siamo tacciati di essere telecomandati, ma noi rappresentiamo la libertà di espressione e la libertà di approfondire gli argomenti per trovare le soluzioni giuste per il Paese. Queste persone sono state telecomandate perché avevano lavorato su miglioramenti di quel testo su carta a straccia che era arrivato, da quell'accordo nelle stanze segrete. Nella notte hanno avuto il diktat di colui che li telecomando, ovvero sia ritirati i 50 emendamenti. Arriviamo a stamattina, nel quale è stato commesso un atto di violazione procedurale, probabilmente senza precedenti. La premessa è che noi vogliamo lavorare, siamo coloro che hanno chiesto di trasferire la legge elettorale dal Senato dove era impantanata la Camera, siamo coloro che aspettavano di poter lavorare in commissione e stamattina cosa è successo? In un blitz, quando noi chiedevamo il tempo per fare il nostro mestiere per cui siamo pagati dei contribuenti, è stato votato in violazione di qualsiasi regola perché non esisteva il numero legale, perché non c'era la possibilità di votare in quel momento è stato dato mandato al relatore. Detto questo cosa faremo? Questa è la descrizione dei fatti, della realtà, non è una valutazione politica. Noi oggi abbiamo un obiettivo, è quello di far tornare il rispetto all'interno della commissione, quindi questo Parlamento, delle regole democratiche e costituzionali. Per farlo faremo un ricorso diretto come gruppo parlamentare, che non ha precedenti, è un ricorso diretto per conflitto di attribuzioni e riguarda anche quanto appena detto dal collega Brescia nei confronti di quanto ha fatto ieri di quella violenza alla democrazia, alla libertà rappresentativa che ha fatto ieri la Presidente Bolterini con la ghigliottina. Un ricorso diretto a queste violazioni procedurali del regolamento della Camera e soprattutto della Costituzione e lo faremo alla Corte Costituzionale con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di tutto quello che è successo, con l'obiettivo di tornare in commissione e lavorare, perché siamo un po' qua per questo. Grazie a tutti.